L'artista di Sistenzialismo ultimissime coronavirus, parliamo che dopo tutte queste chiacchiere sulla gente di trasmissione potrebbe essere stato un serpente, tra le tante cose, ora il pangolino, pangolino che è un tipo di formichiere, una sorta di formichiere, tra l'altro è anche in via di estinzione, che ha i geni per certi versi similari all'uomo, al 99%, probabilmente questo sorti formichiere con delle scaglie addosso, grigiastro, cinerino, quindi potrebbe essere un veicolo di trasmissione, si sta valutando questa piccola cosa, ma la cosa importante è che dopo aver codificato i geni specifici del coronavirus, tendenzialmente si dice che stanno provando una serie di test, e poi nello specifico i primissimi test proprio entreranno tra due o tre mesi, scimmie topi e quant'altro come cave, oltre 100 animali, Shanghai University, tendenzialmente si dice che prima di un anno e mezzo, 18 mesi, quindi ripeto un anno e mezzo, non ci potranno essere un vero e proprio vaccino da testare sulle persone. In Italia si sono parlati di alcuni casi, ma non ci sono delle certezze, anche un caso a Salerno, sospetto, ma conferme non ce ne sono minimamente, si dice che agisce sempre per via aerea, per quanto riguarda alcune pareti di riferimento, sempre i famosi 20 giorni di incubazione, ma tendenzialmente si parla al contatto con alcune superfici, 9 giorni per quanto riguarda una superficie in metallo o plastica, oltre i 9 per quanto riguarda una superficie in legno, però queste sono sempre cose che sono in divenire, perché la gente principale del contagio si dice che è per via aerea, quindi questo è un pochettino le ultimissimo sulcorovirus.